io non mi sopporto più a settidue, non mi sopporto, venute da dove è no no, No no, mafia Sofia ciao a tutti Noelle vi è lei e Sofì e benvenuti in un nuovo daily vlog ora vediamo fatevi un nuovo video dove è la mia cadena di pounds e vittà yeahi ehmini ninni avete riconosciuto il posto è dove siamo? ahaaaah aaaaaah graafiii braafaaa letto che si alza piscine dentro stanza Siamo in piazza di Spagna Royal Suite che ormai sta diventando il nostro posto preferito qui a Roma Sì perché siamo a Roma Buongiorno Siamo a Roma perché stiamo lavorando a delle cose davvero super segrete, super fighe che al momento non vi Ho dei capelli asceni che al momento non vi possiamo spoilerare Siamo qui e non siamo soli perché con noi qui a Roma c'è anche Manager Gigi Ricordate Manager Gigi l'ultima volta che ci siamo visti? Cosa ha combinato? Quel maledetto mi ha fatto uno scherzo super crudele Mi ha nascosto la macchina Mi avete fatto credere che mi avessero rubato la macchina Per me è stato davvero un incubo dei momenti da dimenticare Quindi aspetta lui Confermi che io non c'entro niente tutta colpa di manager Gigi No 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 è anche colpa tua Non ballare non cantare vittoria L'hai detto l'hai detto Dove va dove va? Ma dove è andata? Dove sta andando? Non c'entro niente Ragazzi L'ha detto l'ha detto L'ha detto Ragazzi ma tu puoi è andata? Ma che sta facendo? Sofì Eci subito da qui È bellissimo Colpa di Sofì colpa di Gigi non importa Perché oggi avrò la mia vendetta Buah Ovviamente come tutti gli scherzi più divertenti L'ho suggerito io stessa a lui E penso che sia lo scherzo più divertente di sempre Ma soprattutto Stavolta non ci perdonerà più Se quando gli abbiamo tagliato la barba Si è arrabbiato Però poi ha accettato le nostre scuse Stavolta proprio non ne vorrà sapere Si arrabbierà tantissimo Diventerà fuoribondo Quindi oggi è ufficialmente l'ultimo giorno in cui abbiamo un manager No dai lì non essere così pessimista Noi speriamo bene Non ci arrabbiare Ma prima di tutto direi di fare teletrasporto da manager Gigi E questa volta Sofì ho intenzione di fare un teletrasporto super pazzo Cosa hai in mente? Voglio fare le cabriolè Le cabriolè? Che scusa è le cabriolè? È una tecnica antichissima che usavano i primi vlogger nel mondo Ovvero il lancio della videocamera in aria con ripresa al volo No Non lo fare per rompere la videocamera Non devo fare Se rompire la videocamera Se rompire la videocamera Poi come facciamo a vloggare il cosino? No Aiuto Non so per fare 3, 2, 1 E qui con noi c'è Gigi Non ho capito perché urli Gigi Non devi urlare sempre Non devi urlare sempre Sei fresco Non devi urlare E oggi qui con noi Oltre a Gigi Guardate un po' che c'è Me la ricordate? Lei è la nostra trottina di Roma Si chiama? Giulia Allora Giulia Ti dobbiamo parlare Tu hai visto il video in cui prendevamo la chiave di nascosto? Sì Ma dimmi un po' Ci perdonate? Sì E quindi non ci arrestano più giusto? Non siamo ricercati qui a Roma dalla polizia Forza Scherziamo Scherziamo Oggi Team Trott è il nostro grande giorno Perché guardate un po' Merager Gigi ha preso per noi Un backpack Guardate E' bellissimo Che per l'occasione guiderà Sofì No Cosa? Sì No Vai Sofì devi guidare tu Luì ma lo sai io non so guidare niente Aiuto aiuto Vai 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 Dai che ce la fai Sofì No Questo è per i passeggeri non per te Puoi andare proprio tranquilla Allora Ti prego Giulia accomodati Gigi Noi dietro E' pericolosa Sei pericolosa Sì E' pericolosissimo Aiuto Vai Sofì ci sei? Ma si è acceso Sì sì è già acceso Luì ma non possiamo iniziare con te che la guidi E poi continuo io Preta la freccia Perché la freccia è importante Vado un po' dietro Vai Piano piano Vai vai Sofì E' stato bellissimo Ok Carcio ferma Guido io Sì sì guida lui Guida lui Che bello Guida lui E' un mezzo troppo pericoloso per una carciofina Devo guidare io Siete pronti passeggeri? Sì signor capitano Siamo super pronti Capitano lui vi sta per portare in giro per Roma Ma tu le strade le conosci o andiamo così a sentimento? Gigi Roma la conosco come le mie tasche Io sono nato a Roma Io vivo a Roma Io sono romano Ti fai del monte? Giulia Guarda che Giulia è comunque bravissima Conoce tutte le strade Ok Andiamo allora Ok allora si parte 3, 2, 1 Via Si parte BV Io lancia Io lancia L'ho lancia Io lancia U Calcio Come si suona non c'è un clocson Abbiamo una macchina dietro Che è Ben Ansia Andrà lentissimo Sembra Polar Sembra Polar Corri Non CP Contramano Via 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 Struzione Scambiamo Per il mio grande momento posso fare finalmente la feeling challenge Lui cosa fai? Aiutami Aiutami Via Aiuto Lui non vorrei prendere mica quella galleria Stiamo cercando la fontana di Tremi No Voglio vivere per favore Lui accelera non abbiamo paura No Eeeh La luce Si però Lui Adesso io e Giulia vogliamo il gelato Quindi gelato 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 Robongo gelato alla fontana di Tremi Siiii Dove stiamo andando? Vi porto in un posticino che conosco solo io Ed è qui Eeeh Il momento del gelato Che gusto hai preso? Tortolato e vaniglia Pistacchio Pistacchio e cioccolata latte Spacciatella E io pesco il cocco Gelato E adesso si torna a casa Siamo già arrivati Ok E' stato super divertente E' stato bellissimo Roma è stupenda E poi andare in giro Dicevo andare in giro con questo E' stato bellissimo Perché l'abbiamo potuto apprezzare Ancora meglio Adesso Dobbiamo mettere in atto il piano Perché ogni giorno Insieme a Tim Trote E se ancora non fate parte Dentro dovete assolutamente Poi prendere le nostre maglie che trovate su me Controday.it slash shop Oppure il link in descrizione Ma adesso Ti ricordi l'ultima volta Quando abbiamo fatto quell'innocente scherzetto In cui ti abbiamo tagliato la barba Che vuoi? Oggi mi voglio fare perdonare Anzi ci vogliamo fare perdonare Io ho Ma che regalo? La tua barba E' il cuore di questo canale Così abbiamo pensato Di farti un regalo Ovvero abbiamo comprato Un kit Costosissimo Una roba incredibile Per rendere la barba Super morbida Lucente E lunga No E oggi Ti potremo fare Un trattamento Gratuito C'è noi Al tuo servizio Come fossimo dei quaffè Poi me ne ha Giorgigi Guarda a chi ti affidi Guarda che capelli lunghi che ho io Tutto questo Grazie a questo balsamo Miracoloso Avrei una barba lunghissima Pure io Non sono finti sui pelli Guarda ce l'avrei così Quindi andiamo Intanto menager Gigi è andato nella sua stanza A prepararsi Adesso vi spieghiamo di cosa si tratta Gli abbiamo detto che gli metteremo un balsamo Per far diventare la barba più lunga Lucente eccetera eccetera E questo è vero Perché per prima cosa gli metteremo questo olietto Che serve proprio a quello Però serve anche a un'altra cosa Ovvero a fare appiccicare i glitter che gli metteremo successivamente Esatto perché abbiamo in mente di far diventare la barba di manager Gigi una glitter barba Non abbiamo idea se funzionerà questo prodotto Ma di sicuro la scena sarà super divertente Quindi non vediamolo ora Ok tiptrot è arrivato Sì Arrivo Bene Gigi Un'ora che mi cerco Il tuo grande momento è arrivato Finalmente Sarai trattato da vero re Cominciamo da lì? Eh? No quello è per noi Tu hai solamente la barba Io mai niente Cattamento barba Master over 3000 Bellissimo Questo è il regalo? No 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 questo è il regalo Sì della barba Adesso vedrai Ecco il trono Il del principe Ah Su 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 Piccolo principe All'ingresso Ah Questa è la zona più illuminata Per vederti meglio Aspetta Sei felice? Sei pronto? Sei carico? Io sono pieno di adrenalina Io mi do Troppa attenzione intorno a me No 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 Tranquillo adesso rilassati Perché il tuo momento te lo devi godere appieno Ma chi è che fa cosa? Io 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 che sono bravissima Tranquillo Tranquillo Sono bravissima Allora questo è un bavaglino Non per bebè Ma per persone che devono fare questo Ok Così Così A me questa cosa questa cosa non convince Ti metto un po' di ancia Ma cosa? Stai tranquillo Tranquillo Allora mettiamo così Et voilà Tu devi soltanto rilassarti Chiudi gli occhi E alla fine ti guarderei allo specchio e direi Mamma mia ma che bellissima barba Non guardare Sarà una sorpresa Bene bene manager Gigi Rilassati Chiudi gli occhi Vedrai quest'olio È un olio orientale Direttamente Dalla Dall'India Però mettici più passione Si si ma io veramente Belliti guarda il massaggio Barbina morbidina Diventerà molto più bellina E adesso andiamo con la seconda fase Oh questo è il relax che mi serviva Però non vale come regalo Cioè questo è un breve Si ma Gigi ci lavori sempre Ci sta un po' di relax è vero Anch'io mi sto rilassando Alla fine vedrai un risultato Davvero Fenomenale Sensazionale Ma la sento già morbida comunque Ok manca poco Sto per finire No dai un po' di più mi sto veramente rilassando 5 minuti Bene si si continua un altro po' Se questo quello che vuoi Tutto per il nostro manager Gigi Non pensavo proseguirava Grazie Grazie mille Anch'io mi sto divertendo tantissimo Ok e voilà Grazie Gigi Ho finito Si Però adesso ti devi andare a guardare allo specchio Perché noterai sicuramente un po' di differenza Un massaggino no? Dopo dopo Aspetta non aprire la porta Un attimo Gigi noi ti vogliamo bene E sappi che tutto ciò che abbiamo fatto oggi L'abbiamo fatto solo perché ti vogliamo bene No perché? No no niente No no tranquillo Non succede niente Che zetta media Gigi Sei bellissimo E' un albero di Natale Non puoi capire quanto sei fashion Sei una bella d'orchina Sei bellissimo Quindi che te ne pare? E' uno scherzo questo Si si è uno scherzo Si ma nel senso viene via E non lo sappiamo Io non mi sopporto più a tutti e due Non mi sopporto mai Non mi sopporto Aiuto aiuto Nono davvero nono nono Ti chiudiamo qui sotto il letto Io adesso mi attacco tutto il blu qua così guarda No 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 aiuta Brilli sei una stella Sei una fata turchina Giulia cosa ne pensi? È vero sono una fata turchina Mi sembra un albero di Natale comunque Si Bene c'è Gigi questo era uno scherzetto Noi ti vogliamo bene ti chiediamo scusa E ti assicuriamo che con un po' d'acqua questo andrà via E soprattutto un giorno avrai il tuo regalo per tutte le cose che devi subire ogni volta per colpa nostra Ma comunque ti trovate se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna avventura Perché come potete vedere ogni giorno è davvero super pazzo Seguiteci su Instagram, chiocciolo a me contro te, sofi.scalia e luigi.calagna Cliccate il video di vista per conoscere i suoi amici e noi ci vediamo domani Buonanissima avventura Ciao Che però non sta male Non è vero?